All'inizio, io l'ho detto solo! Comincia il gioco! Chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è! Voi siete solo in questo lago trasportato? Si vince a mille punti! Il primo classificato vince un caro armato, vero? Per lavorare! Beato lui! Qualcuno che si tratta di sabotaggio, si tratta con il gioco di gioco. Le impostazioni si trovano sull'attività, con le scelte e il ritorno. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella so parlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto Asino, qui sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano! Chi ha paura, perde punti! Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erringen bestraft. Ist das klar? In tre casi si perdono tutti punti. Li perdono! Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. E' molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso quaranta punti, perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Großemkeit ist alles. Dal Bicocke. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell! Ah. Non chiedete lecca lecca, perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Antreten in zwei e halve. Io ieri ho mangiati 20. Schweigend! Mal di pancia. Jeden morgen. Per noi erano buoni. Isabel. Lascia a fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die dimension des lagers leicht bereifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Scusa, ma... No, no, no. Non mi chiedete niente a me. Chiedete tutto a Bartolomeo. Lui sa tutto. Vi dice tutto lui. Dopo me lo dice anche a me che ha detto. Mille punti. Te l'avevo detto. Chi si diverte?